Anzi, un viaggio! Ah, quando partiamo... Lo zò praticamente, lo zò portiamo presto, sempre con noi, sempre con voi. Sì, sì, abbiamo proprio modificato le vacanze, pappagalli e cani sempre con noi. Abbiamo portato una macchina grande. La nostra anche lei viene sempre con noi, ma lei è così piccola. È agevole, può portarla anche in aereo. Sì, sì, sì. No, 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 no. Perché come è entrata è portata nel tuo trasportino.